Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo insieme questi animaletti che popolano il mare. Ci servirà il seguente materiale. 4 cartoncini colorati, delle mollette, dei pennarelli, una matita, una forbice, la colla e 4 cartamodelli per fare gli animaletti. Questi li potete scaricare anche da internet. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!